Ragazzi, oggi non c'è ancora corrente come solito, comunque volevo farvi vedere come faccio per fare la calciatura della cricket senza la meccanica. Allora, questo l'ho fatto ieri al torno, è esattamente il tubo dell'aria, questi qua sono i 2,8 e questo è il castello posteriore, adesso poi lo dovrò saldare solo che non c'è corrente, comunque vabbè. Dopodiché io con questi due pezzi qui ho già le misure esatte 38,8 e 42, poi adesso gli saldo la piastrina qui sotto di un centimetro e mezzo, rettangolare, qua ci andrà il grilletto e le due boccole. Eh, questo è 2,1, è esattamente la larghezza del castello, dopo lo inserisco dentro, lo saldo e praticamente ho l'esatto diametro e l'esatta posizione del castello, come se avessi la meccanica. Niente di così eccezionale, una cosa semplicissima per fare una meccanica che non hai, questa è della cricket, poi dopo potrò fare anche di altre versioni, non c'è problema. Quindi, questo è quanto. Ciao ciao.